La frutta sicuramente, cioè per dire quest'anno le pere hanno dei prezzi folli. Io l'anno scorso vendevo della tipologia di pere a 2,30-2,40, quest'anno io le vendo a 2,70-2,80. La frutta a peso d'oro. Al mercato ortofrutticolo di Vicenza sono gli stessi produttori a confermarlo. Il costo delle materie prime è salito alle stelle. Frutta e verdura in generale, sì, un po' tutto. Per cento? Un 10-20%, sì, secondo me sì. I clienti? I clienti non notano, anche perché è un periodo un po' difficile per tutti e questo va a gravare, a pesare, selezionano la merce. Ci troviamo in difficoltà perché chiaramente i clienti ci dicono come mai c'è questo aumento improvviso di frutta e verdura. Le aranje le stiamo tenendo 1,50. Comunque da noi i prezzi per il congime è aumentato del 100%. È aumentato tutto. Qualcosa che l'ha colpita più di 4 euro? Le zucchine, 5 euro al chilo, cioè la cosa. Le lascio, non le prendo proprio. Non si può, insomma. E la frutta? La frutta prendo quella di stagione e quindi i prezzi comunque sono cari. Che nel supermercato ci sia un più rincaro. Noi essendo un'azienda a conduzione familiare ci stiamo ancora un po' dentro sui prezzi, insomma. Io ho controllato anche stamattina il prezzo del gasolio al distributore e mi aumentano un centesimo al giorno. Cioè se non alziamo non riusciamo a starci dentro con le spese purtroppo. Le persone, i clienti cosa fanno? Come si comportano? E prendono il necessario. Quindi, come dire, il cibo che basta giornalmente. Dai produttori poi i problemi si riversano sui grossisti per la grande distribuzione. Le stime che abbiamo sono di un aumento di un centesimo, due centesimi al giorno su ogni chilo di merce solo per il mantenimento al freddo di mele e pere. Le pere hanno subito un fortissimo aumento quest'anno anche a causa delle gelate di marzo del 2021 che hanno ridotto la merce a circa il 10% della produzione italiana. Difficile fare una previsione. Credo che comunque se non ci sarà un rallentamento dell'aumento della corrente e del gas è difficile che si fermeranno gli aumenti dei prezzi della merce.